Ehi, quel libro è mio. Questo libro è tuo? Sì, è mio. Bugia. Non sto mentendo. Io dico la verità. Come fai a sapere che è tuo? Perché c'è il mio nome scritto sopra. Provalo. Vediamo un po'. Ti chiami Giovanni? Sì, visto che è il mio. Il problema è che anche io mi chiamo Giovanni. Come? Sei sicuro che sia tuo? Perché penso che questo libro sia mio.